Il tema che affrontiamo è un tema del quale molto si parla, in qualche caso se ne parla un po' di Allora è il caso di fare il punto della situazione, parliamo dei vaccini perché recentemente in un convegno organizzato dalla società italiana di pediatria una giornata è stata dedicata proprio a questo tema, non solo i vaccini avete detto sono in grado di salvare la vita dei bambini ma possono rappresentare anche un risparmio per il servizio sanitario nazionale. Sì, è corretto quanto lei sta riferendo, abbiamo parlato sì delle vaccinazioni, soprattutto delle malattie infettive ma soprattutto della possibilità grazie ai vaccini di proteggere i bambini e quindi evitare tutta una serie di situazioni nelle quali molti non sono a conoscenza. Un esempio tipico è rappresentato da un bambino che viene colpito da una meningite solamente nella fase del ricovero, in fase acuta quindi quando sta male inizialmente il costo di questa situazione mettendo da parte il costo umano, emozionale e ogni sorta di altro costo è intorno ai 120.000-150.000 euro per un solo bambino. Perché sottolineiamo questo aspetto? Perché i detrattori delle vaccinazioni parlano anche dei costi dei vaccini ignorando quelli che sono i costi delle malattie. Sì perché si parla spesso di una normativa, almeno i detrattori così dicono, che andrebbe incontro agli interessi delle multinazionali che producono i vaccini. Però anche raffrontare e parametrare l'utilità dei vaccini al risparmio di costi sociali non rischia però di dare un argomento a chi... La ringrazio di tutti e due gli spunti che lei mi dà. Uno appunto è rappresentato dal fatto che le industrie farmaceutiche si arricchirebbero con i vaccini. E chi afferma queste cose ignora che per far sì che un vaccino arrivi a poter essere utilizzato impegna in genere ricercatori per 15-20 anni. E sono delle ricerche costose, indaginose e di tante ricerche che se ne fanno in media ne arriva a buon fine una su 20, una su 25. Quindi le lascio immaginare e il ragionamento dei costi lascia il tempo che trova, mi perdoni, ma allora pregoniamoci anche il problema di quanto vengono a costare le incubatrici, quanto vengono a costare gli stent se si ha l'infarto, quanto vengono a costare le statine, i farmaci biologici. Quindi è chiaro che le industrie farmaceutiche non sono delle aziende di beneficenza ma fanno il loro mestiere. Ma io direi che ne dobbiamo essere ben contenti se questo consente di salvare vite. I detrattori dei vaccini trascurano un piccolo particolare di queste malattie, si muore. Allora se muore un bambino a Roma, come è successo, dimorbillo, la responsabilità di chi è? Allora su questo ci deve interrogare, dei genitori che non lo hanno fatto vaccinare, del medico che non è stato sufficientemente convincente o di queste persone senza scrupoli che non sanno neanche di cosa stanno parlando? Uno tra gli argomenti che vengono portati avanti c'è il rischio di danni a lungo termine. Poi soprattutto si parla di danni neurologici a lungo termine che sono quelli che francamente mettono più timore alle famiglie nella fase di scelta sulle vaccinazioni. La ringrazio anche di darmi la possibilità di smentire anche questo in maniera netta. C'è stata tutta la favola sull'associazione tra il vaccino contro il morbillo e l'autismo che è stata definitivamente smentita ma non solo, fortunatamente anche la magistratura ha smentito precedenti sentenze e non dimentichiamoci che noi siamo il paese in cui è successo stamina, in cui la scienza da mesi, da anni diceva che non era una strada percorribile. Quindi per quanto riguarda le possibili complicazioni, da cosa nasce questo? Dal fatto che chiaramente molte delle patologie neurologiche insorgono nei primi mesi di vita e nei primi mesi di vita si fanno le vaccinazioni. Ma il fatto che ci sia una corrispondenza temporale non significa che c'è un effetto, una causa-effetto e questo deve essere ben chiaro, ricordandosi, ribadisco, che queste malattie non sono completamente sconfitte purtroppo, di queste malattie ancora si muore e i germi ci sono e circolano, non fanno danni perché la gran parte della popolazione è vaccinata. Ma non è che non esiste più la bordetella per tussis, per la pertosse, piuttosto che il meningococco, ci sono. E questo è molto importante specificarlo perché proprio un altro degli argomenti portati avanti è quello che l'incidenza oggi nel nostro Paese di determinare malattie è talmente bassa da rendere statisticamente più pericoloso il vaccino che non è esporsi al rischio delle infazioni. Ma è bassa grazie alle vaccinazioni, ma soprattutto, le ripeto, di chi è la responsabilità di un bambino che in Italia muore di pertosse nel 2015? È giusto che un bambino non sia tutelato, non sia protetto? Chi ha la responsabilità di questo? I minori vanno tutelati? La salute dei minori va protetta o no? Un altro tema che è emerso con forza è più organizzativo ma altrettanto importante. Quello avete definito il federalismo dei vaccini perché effettivamente ci sono normative molto diverse da regione a regione con alcuni cittadini che hanno dei vantaggi anche in termini economici e altri che non li hanno. La ringrazio di darmi l'opportunità anche di insistere su questo. Come pediatri, ma non solo per l'argomento dei vaccini, per tutto ciò che riguarda la sanità, noi siamo decisamente contrari a questa regionalizzazione che rappresenta semplicemente una regolamentazione della iniquità. Quindi i bambini italiani non sono tutti uguali perché ci sono dei bambini più fortunati che hanno a disposizione la possibilità di poter fare tutte le vaccinazioni gratuitamente e ci sono poi dei bambini che sono meno fortunati. E questo in uno stato civile, ripeto, nel 2015 è intollerabile. Quindi non c'è equità delle cure, si viene meno a quello che è un diritto costituzionale. Quindi noi dobbiamo tutelare la salute dei bambini ma questo ci ha impedito proprio dal fatto che abbiamo 21 diversi sistemi sanitari. Abbiamo parlato prima di infezioni potenzialmente pericolose anche per la vita dei bambini. Determinate categorie a rischio vengono però consigliate di effettuare annualmente anche la prevenzione, quindi il vaccino dell'influenza. Al di là dell'anno straordinario che abbiamo vissuto con molte persone che si sono vaccinate a causa del paventato pericolo del vaccino di quest'anno, lei come emerso dal vostro convegno si sentirebbe di consigliare la vaccinazione dell'influenza anche alle categorie di bambini che non sono a rischio perché sane o perché non in età particolarmente pericolosa. Guardi, le rispondo con dei numeri e so che a voi giornalisti i numeri piacciono molto. 613 morti in più a causa della mancata vaccinazione antinfluenzale quest'anno. 613 morti. Allora, noi su questo dobbiamo riflettere. Perché cosa poi lo stesso per un evento che non aveva nessun collegamento col vaccino? Nessuno. Per quanto riguarda i bambini, le categorie di rischio devono essere vaccinate proprio perché in quei bambini, bambini che hanno patologie croniche importanti, quindi patologie polmonari, cardiopatici, pazienti con situazioni neurologiche importanti, il vaccino diventa un salvavita perché l'influenza in quei bambini può portare a morte. Sui bambini cosiddetti sani è un'opzione, nel senso che chi ritiene di vaccinare lo faccia pure, non c'è controindicazione, però ecco, per quanto riguarda il vaccino per l'influenza, negli Stati Uniti per esempio è fortemente consigliato in tutti i bambini sotto i 5 anni. In Italia c'è una posizione, diciamo, che lascia maggior spazio a una serie di situazioni, quindi chiaramente se c'è un bambino che è scolarizzato precocemente, il vaccinarlo lo proteggerà almeno dall'episodio influenzale, in un bambino che magari non è scolarizzato e protetto, questo diventa meno indispensabile. Ha citato gli Stati Uniti, lì c'è una cultura anche della vaccinazione che ha la possibilità di sfruttare uno storico molto più ampio, lì i risultati e in termini di infezioni e in termini anche di risparmio dei costi sociali, quali sono? Sono documentati ed è per questo che in un regime sanitario molto attento all'economia le vaccinazioni diventano una condizio sine qua non. Negli Stati Uniti se un nostro ragazzo vuole andare in un college statunitense e non è vaccinato non ha accesso. Negli Stati Uniti 250 casi di morbillo in una popolazione di 260 milioni di abitanti ha fatto fare un intervento al Presidente Obama, noi ne abbiamo circa 2 mila di casi in Italia e siamo 60 milioni di abitanti, quindi negli Stati Uniti i rapporti costo-beneficio economici sono stati fatti e sono nettamente a favore dei vaccini, ma le ripeto l'aspetto economico è sicuramente importante, ma è intollerabile che dei bambini muoiano o abbiano degli esiti invalidanti, gravi e seri nel 2015 quando questo è evitabile. Chiarissimo il messaggio delle famiglie, approfitto di lei professore, visto che ci stiamo avvicinando anche al periodo estivo, si tende a pensare all'inverno dalle spalle i rischi più gravi anche di malattie banali, ma molto fastidiosi per un bambino, ormai si riproporranno l'anno a venire. Ci sono invece rischi specifici di questo periodo, della tarda primavera, dell'estate e quali consigli eventualmente si possono dare? Guardi, sicuramente la bella stagione comporta maggior benessere, quindi su questo è facile dirlo, però chiaramente anche durante i periodi estivi, soprattutto nell'estate, bisogna avere delle piccole accortezze, una di queste sicuramente rappresentata dall'esposizione al sole, quindi ricordarsi sempre, soprattutto nei bambini piccoli, di esporli nelle ore in cui è giusto esporli e proteggendoli con delle creme solari, d'estate tipicamente è facile incontro a degli episodi gastrointestinali, quindi stare attenti a seconda di dove si va, a quello che si mangia e a quello che si beve, quindi d'estate sicuramente i bambini stanno molto meglio dovunque i genitori decidano di portarli, quindi insomma i bambini stanno bene dove stanno bene i genitori, mare o montagna questo è di secondaria importanza, però non è un periodo in cui fare quello che si vuole, anche nel periodo estivo, per esempio nei bambini vanno rispettate le regole e i loro comportamenti, nei ragazzi un po' più grandi è chiaro che va concesso qualche eccesso, ma ricordandosi che poi l'ordinarietà deve essere basata su una vita salubre e sana, anche se è estate. L'ultimo consiglio nel salutarci ancora una volta a tutte quelle famiglie, magari ce ne sono anche all'ascolto quei genitori che in questo momento si trovano di fronte a una scelta, al di là insomma dei vaccini obbligatori per legge, insomma quello lo diamo per scontato, di tutte invece quelle altre vaccinazioni considerate dalla normativa italiana al momento facoltative. Allora anche su questo io la ringrazio molto di questa domanda, perché come pediatri ma non solo, insieme alle altre società scientifiche, ai maggiori sindacati medici, perché sono poi loro che operativamente agiscono sui loro iscritti, abbiamo fatto il cosiddetto calendario per la vita, in cui sono comprese tutte le vaccinazioni e sono tutte raccomandate. È chiaro che in base a delle vecchie normative esistono quelle che sono considerate le quattro vaccinazioni obbligatorie per legge, ma erano dovute a delle contingenze e a una situazione sociale, culturale, che imponeva quel tipo di atteggiamento. In molte nazioni le vaccinazioni non sono ovviamente obbligatorie e sostanzialmente non lo devono essere. La vaccinazione è un lusso e un diritto che va utilizzato e va sfruttato. Quindi il mio consiglio è di consultarsi col proprio pediatra, ma di avvalersi di questo privilegio da paese ricco finché dura. Grazie, grazie davvero a Professor Melani, buon lavoro per lei e torneremo a parlarne, se vorrà anche in futuro, per fare un bilancio nel trend delle vaccinazioni del nostro paese dopo che il dibattito sia così acceso negli ultimi anni. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e dopo apriamo la pagina sportiva.